Lick, ben ritrovati nei cari vintori del Lugiona Bar Calcio. Il calciomercato in Italia sta per prendere piede, probabilmente, perché c'è una notizia che sta tenendo in apprensione praticamente tutti, non solamente la diretta protagonista, l'Inter. Difatti sembrerebbe, se ne parlava già nelle ore ieri sera, nelle ore serali, di un'offerta travolgente di colossali dimensioni macroscopiche da parte del Chelsea all'indirizzo di Romelu Lukaku dell'Inter. Difatti sembrerebbe che il Chelsea raddoppi lo stipendio di Lukaku che all'Inter percepisce 7 milioni e mezzo e gli andrebbe ad offrire uno stipendio di 15 milioni netti a stagione, motivo per cui Lukaku, davanti a tale proposta, ha vacillato e sembra avere ceduto e adesso il Chelsea starebbe trattando con l'Inter il prezzo del cartellino. L'offerta sarebbe già arrivata a 100 milioni più il cartellino di Marco Salonso, ma l'Inter dice che non basta. Sembra che possa adesso, in queste ore, arrivare a quota 130 come offerta totale, ma l'Inter, per cederlo, pare volere 150 milioni per dire sì al Chelsea di Roman Abramovic. Ora, lasciando stare il perché e il per come molte squadre riescano a spendere tali cifre in epoca pandemica che, a detta di tutti, Marotta in primis, il calcio rischia un default, questo però non vale evidentemente per chi ha dei presidenti di calcio come appunto Roman Abramovic e, guardate, quello del Paris Saint Germain, l'arabo, che gettano soldi dalla finestra. E perché possono gettare soldi dalla finestra? Perché da quello che mi pare di aver capito, il fair play finanziario con la storia del Covid è stato sospeso. Quindi, per la serie, i presidenti che hanno i soldi è il buon momento di poterli spendere. Per assurdo, in queste finestre di mercato si vede veramente quali sono i presidenti che vogliono vincere senza voler lucrare con le proprie squadre. E sicuramente il patron Roman Abramovic sta facendo questo, per carità forte anche delle entrate derivanti dalla vittoria della Champions League scorsa, che sono parecchie ed ingenti. Però, insomma, il Paris Saint Germain sta comprando la qualunque, ad esempio. Comunque, rimanendo sul Romelu Lukaku, l'Inter potrebbe incassare a breve 130-150 milioni, più forse addirittura il cartellino di Marcos Alonso, che è il terzino che andrebbe tanto a ricercare l'Inter di Simone Inzaghi, ok, di piede sinistro, quindi terzino sinistro. E poi l'Inter dovrebbe, a quel punto lì, virare su profili alternativi, perché c'è del Lukaku, che è stato il simbolo dell'Inter, dello scudetto di Conte di quest'anno, e che simbolo? Pensate che c'è ancora qualcuno che ha da ridire su Romelu Lukaku, ok? Quando non si vuole cambiare idea neanche davanti ai fatti. Comunque, tornando a noi, Romelu Lukaku, io sono un grande amante del giocatore, un grande stimatore del giocatore, penso che sia uno degli attaccanti oggi più forti, che siano in circolazione, adesso dirò una bestemmia, ma io quest'anno, ad esempio, se dovevo scegliere tra avere in squadra Romelu Lukaku o CR7, avrei scelto Romelu Lukaku tutta la vita. Ma questo già dall'inizio dello scorso anno, non perché ho visto come è andata a concludersi. Ritengo Romelu Lukaku veramente trascinante, trasbordante, e per lui sarebbe il terzo ritorno a Londra sponda a Chelsea. Quindi, chissà che per la terza volta finalmente non riesca la Londra a fare quello che precedentemente non è mai riuscito, cioè segnare almeno una rete. Quando è stato al Chelsea, per le due volte in precedenza, non è mai riuscito a segnare una rete, rimanendo a zero gol fatti. Quindi l'Inter si starebbe guardando attorno ai primi nomi che stanno uscendo, sono quelli di Duvan Zapata dell'Atalanta o Dusan Vlaovic della Fiorentina. Poi ci sono dei nomi alternativi che potrebbero portare a un L'HZ dell'Arsenal, ma secondo me sarebbe veramente passare da Lukaku all'HZ qualcosa da stracciarsi in marroni a seduta stante. Diciamo che, pur mettendomi e medesimandomi nel tifo, nerazzurro di sponda milanese dell'Inter, passare da un Lukaku a qualsiasi altro attaccante, paventato adesso, anche da un Zapata che per carità per caratteristiche ci assomiglia molto a Lukaku, questo va detto, però, insomma, passare da Lukaku a Zapata, insomma, passare... Volete mica Musabarro? Ci abbiamo Musabarro che... Più o meno come caratteristica... No, no, ok, non ci... Dottore, non ci sono cascati, io ci ho provato. Niente, continuiamo. Allora, Zapata sarebbe obiettivamente quello che più si avvicina alle caratteristiche di Lukaku e soprattutto, aspetto da non far passare in secondo piano, conosce già il calcio italiano e si sa che ci sta molto bene. Quindi, secondo me, potrebbe essere la soluzione più naturale, fermo restando che anche un Dusar Vlaovic, anche se ha caratteristiche diverse, secondo me, meno si sposerebbe con quelle di Lautaro Martinez, secondo me sarebbe già più difficile. Mentre, potrei, secondo me, e qui questo non lo sto leggendo, ma lo rilancio io, visto e considerato che l'Inter sembrava molto interessata al giocatore, ma l'aveva mollato per mancanza di soldi, ma poi se dovessero entrare 130-150 milioni, secondo me, i soldi poi ci sarebbero, potrebbero tornare per potentemente su Giacomo Raspadori. Ecco, Giacomo Raspadori è già un profilo che, secondo me, potrebbe dire la sua. Pur, ovviamente, passare da Lukaku a Raspadori, passi da uno, già formato, strutturato, che ti garantisce 30 gol sicuri ad uno che non lo sai, si fa fatica, si fa fatica, magari potrebbe fare una doppietta, prendere sia Raspadori che un Duvanzapata. Adesso io non so quale possa essere la quotazione di Duvanzapata dell'Atalanta, ma io così assentore, pensa, oddio, a 30 anni, penso che, comunque, un 40 milioni, l'Atalanta, anche forte del fatto di aver visto quanti soldi incasserebbe l'Inter, glieli andrebbe a chiedere, l'Atalanta, sa il fatto suo, tifosi, orobici, qua sotto nei commenti, fatemi sapere eventualmente quanti soldi per voi l'Atalanta, chiederebbe all'Inter, forti del fatto che sanno che è arrivato un assegno eventuale da 130, 150 milioni, io dico almeno 40, sinceramente, di più, mi sembrerebbe, forse, conoscendo l'Atalanta, forse si potrebbero spingere a 50, ecco, di più, non mi sembra che sia il caso di spingersi. Comunque, staremo a vedere, questa notizia se troverà fondamenta, ma sembra di sì, perché il lotto amico di Walter Sabatini, ovvero, Pedulla, sta dicendo che è una trattativa già molto avanzata e che le parti starebbero parlando per trovare la definizione ultima. Ora, voi capite che se tale trattativa dovesse andare in porto non è solamente una cosa che coinvolge l'Inter e il Chelsea, ma coinvolge, secondo me, tutto il calcio europeo e anche molte società italiane, perché di, ad esempio, che l'Inter per trovare il sostituto vada ad attingere a un Vlaovic della Fiorentina o forse più probabilmente ad un Zapata dell'Atalanta, ecco che si innesca un domino anche degli attaccanti, che potrebbe veder coinvolto Belotti per la Fiorentina nel qual caso Vlaovic fosse l'uomo disegnato per l'Inter o che potrebbe volere vedere coinvolto Tammy Abram quello l'attaccante del Chelsea, che potrebbe essere il sostituto ideale invece in casa Atalanta. Almeno queste sono le voci del papabile domino che potrebbe venirsi a creare. Fermo restando che l'Inter poi troverebbe della fresca per andare a mettere a posto anche le altre zone del campo, a cominciare appunto dalla fascia sinistra di difesa, dove con tutta probabilità potrebbe rientrare nell'offerta anche Marcos Alonso, che è un terzino di tutta sostanza, insomma, niente male. Quindi è difficile mi metto nei panni del tifo Nerazzurro rinunciare a Lukaku quando prima tra l'altro si era già rinunciato ad Achimi 80 milioni, Lukaku adesso sembra tra i 130 forse addirittura a 150 sappiamo tutti che l'Inter versa in cattivissime acque economiche per questo avevo consigliato ai miei dirigenti del Bulagna di andare su Martins Satriano perché secondo me di fronte a un'offerta di 10 milioni di euro te lo possono anche cedere oggi questo giocatore che secondo me si rivelerà essere molto forte negli anni a venire chissà che magari cedendo Lukaku Martins Satriano l'Inter non ci voglia puntare giustamente mi verrebbe anche da pensare per rivalutarlo e magari fra una stagione vedere il suo prezzo e levitare a 50-60 milioni che è una bellezza potrebbe anche essere a questo punto quindi staremo a vedere come evolverà tale situazione certamente nella notizia Cardiopalma mi sta venendo il batticuore chissà che anche per il Bulagna non ci scappi una seconda punta il vice Arnautovic da tutto questo domino che ne potrebbe conseguire chissà che non ci scappi un esubero da qualche parte che magari tutto ad un tratto un Haaland diventi un esubero ok e arrivi al Bulagna ovviamente parlo del cugino Cialand non Haaland avete capito Haaland avevo detto Cialand che anche quello sembra niente male allora amici cari vintori attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui all'Ugina Barcaccio dei nuovi video mi raccomando sempre mi piaccino ai video per sostenere il canale iscrizione qualora non l'abbiate ancora fatto cioè molto male e noi ci sentiamo alle prossime chiacca da bra Lukaku 150 milioni testar male a l'abbiate a